Buon poveriggio a tutti da Pietro Spataro. Allora, questo è il mio video per quanto riguarda il post partita di Ajax-Juventus. Finita 1-1, meritato però il pareggio perché l'Ajax ha giocato una grande partita rispetto alla Juve perché l'Ajax macina tanto gioco che nelle ultime partite, che in campionato l'Ajax ha fatto 100 gol in campionato olandese. 100 gol. Allora, vi parlo della partita Ajax-Juventus. Per me la partita è stata bellissima. Vi dico il perché. Perché la Juventus è un po' partita forte, diciamo, col tiro di Bernardeschi da fuori, sopra la traversa. Poi ha avuto occasione Xiu e poi Tadic con una Veronica che stava facendo di nuovo come quella contro il Real Madrid al Bernabeu ma l'ha scaricata su Zajczo-Ziek con un sinistro al giro, Szczesny l'ha mandata in angolo. Ha parato l'impossibile, Szczesny. Poi di calci d'angolo ho quasi la pari. Qua c'ho l'Ajax e tre la Juve di calci d'angolo. Allora, per me il primo tempo ho avuto qualche occasione. Ha provato Ziyech o Zajcz con un sinistro al limite. E poi Tagliafico pure ci ha provato. De Ligt è un pochino bravo in difesa come capitano del Ajax. Ma il gol dello 0-1 di Ronaldo è nato da un bellissimo filtrante di Cancelo con un colpo di testa di Ronaldo e un solo tiro in porta. Con l'unico classico tiro in porta. che Ronaldo ritorna al gol dopo un infortunio di due settimane. Ok. Poi è finito il primo tempo così. Poi dopo un minuto è successo che Cancelo sbaglia un controllo e Neresce ne approfitta per fare l'1-1. È stato di più colpa di Cancelo per prendere il gol. Ed è di nuovo in equilibrio. Allora, poi ha bombardato l'impossibile l'Ajax e ha difeso molto bene la Juve, diciamo. Che a ritorno si deciderà tutto. Martedì, il 16 di aprile. Alle ore 21. La qualificazione alle semifinali. Poi... Poi di formazioni ne abbiamo... Di cosa parlo? Ajax è un 4-2-3-1. Messo la Juve è un 4-2-3-1. Allora, gli unici giocatori peggiori in campo della Juve sono Mandzukic che ha camminato per un'ora nel campo. Poi, Alessandro male e l'altro è Cancelo. Male terzini e male anche Mandzukic. Allora, i migliori in campo sono stati Bentancur, Rugani e Douglas Costa. Perché Bentancur e Rugani? Perché hanno sacrificato uno dei giocatori infortunati della Juve. Bentancur per Emre Gianne e Rugani per Chiellini. Hanno fatto una prova di sacrificio. Allora. Poi ha avuto un'occasione la Juve all'ottantesimo quando Douglas Costa è entrato al posto di Mandzukic da un inguardabile Mandzukic. Ha preso il palo, ha fatto pure tunnel addirittura. Ne ha superato un altro. Poi scarica un sinistro omicidiale. E gli olandesi si stavano quasi spaventando dopo che la Juve ha preso il palo con Douglas Costa. e Douglas Costa ha cridato VENDETTA! E poi... E poi Ronaldo dice... Quando la Juventus è sempre in difesa Ronaldo dice SALIAMO! SALIAMO! E invece non salgono mai. Purtroppo. Che danno retta allegri. Normale. Con un difensivista. Che hanno. Vabbè raga. Speriamo bene nel ritorno. Vediamo cosa succederà. Vi ho detto tutto. Allora. L'Ajax macina a gioco. Lo sappiamo. Che fa... Ha fatto cinque passaggi di prima. Passaggi di prima. Poi subito in porta. Fa... Fa passaggi rasoterra precisi. Veloci pure. Tagliafico salta Il ritorno Di Juventus-Ajax Per un giallo pesante Su Cansello Che ci doveva essere L'espulsione Che non gliel'ha dato l'arbitro E ci stava pure Un calcio di rigore Su Bentancur Ve lo siete dimenticati No? Poi... Poi questo Sono due errori arbitrali Che non li abbiamo visti Che non l'ho visto io Vabbè raga Adesso stasera Ci sono partite D'Europa League Giocheranno Una italiana c'è Che è il Napoli Giocheranno Arsenal-Napoli Io spero Con tutto il cuore Che Napoli Possa vincere L'Europa League Speriamo in bene suo Vabbè raga Se gioca da Napoli Dovrà vincere l'Europa League Dimenticavo Ok raga Adesso Se il video di oggi Vi è piaciuto Vi invito Di lasciare un mi piace Di commentare qui sotto Condividerla Se non siete iscritti Iscrivetevi Iscrivetevi Al mio canale Se ancora non l'avete fatto Se siete appena iscritti Vi spunta la campanella Per ricevere le notifiche Sui miei prossimi video Che usciranno Ci vediamo molto presto E sempre forza Juve E andiamo Sabato Concio alla spalla O vincere O pareggiare Per prendere L'ottavo scudetto consecutivo Ciao belli